Carving crew viene di Amara, arrivo Signore, signore, tra qualche minuto atterreremo vi invitiamo a controllare la chiusura del tavolino a porre lo schienale della poltrona in posizione verticale ad abbassare i braccioli, ad aprire le tendine dei finestrini e a mantenere le cinture allacciate fino a quando il segnale luminoso verrà spento tutti i dispositivi elettronici devono essere impostati in modalità d'uso aereo i computer portatili devono essere spenti e correttamente riposti vi preghiamo di non utilizzare auricolari collegati a dispositivi personali durante la fase di atterraggio e di riposizionare i propri effetti negli appositi alloggiamenti sopra di voi o sotto la poltrona davanti a voi in caso di evacuazione di emergenza vi ricordiamo di lasciare tutto a bordo per ulteriori informazioni sulla sicurezza potete fare riferimento al cartoncino nella tasca della poltrona davanti a voi grazie in caso di evacuazione di emergenza vi ricordiamo di lasciare tutto a bordo per fare informazioni di sicurezza potete riferirvi al cartoncino in fronte a voi grazie 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 a tutti. 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 Grazie a tutti.